Buonasera, torniamo con questo nuovo intervento della nostra emittente di internet tra le stelle tv per fare una riflessione sulle tante inadempienze, sulle tante incongruenze amministrative che si registrano sul territorio di Castanotti Votto. Vogliamo segnalare oggi un'altra omissione piuttosto grave in cui è in corsa questa amministrazione comunale, è un'omissione che rigade direttamente sulle tasche di tutti quanti i cittadini, non solo i cittadini del comune di Castanotti Votto che comunque in qualche modo sopportano alcune onerose decisioni prese da questa amministrazione comunale, ma anche di tutti i cittadini per esempio della provincia di Roma e anche della regione Lazio. Mi riferisco alla questione amministrativa del Castello Ducale di Castanotti Votto che molti cittadini casternoesi, ma anche molte persone che vivono in quest'area, anche nei paesi limitrofi, conoscono come la Rocca di Castanotti Votto. Si tratta di un bene monumentale, storico architettonico del XIII secolo, appartenuto ai Colonna, una famiglia padrizia dell'epoca e che poi attraverso diverse vicende che si sono alternate nel corso dei secoli è stata e è arrivata appunto ai cittadini di Castelnuovo e viene gestita dalle amministrazioni comunali che poi si sono succedute nel corso degli ultimi 30 anni, 40 anni. Hanno avuto modo di prendere decisioni diverse che hanno determinato delle ricadute per così dire diverse su questo bene che appartiene comunque appartenuto tradizionalmente, tradizionalmente appartiene ancora ad oggi ai cittadini Castelnuovi, un bene che non è stato mai trattato come adeguatamente per il rango che gli competeva di edificio storico architettonico e nel corso degli anni è andato contro una sconsiderata decisione presa da un'amministrazione comunale di tanti anni fa di vendere il bene, cioè un bene pubblico, un bene importante di rilevanza appunto come abbiamo detto architettonica e storica a privati cittadini. Il bene venne di smesso intorno agli anni 70 per una cifra risibile di circa 60 milioni a un privato cittadino. Questo, lungi dal voler prendersi cura del bene stesso, lo spogliò un po' di tutte quelle che erano le rifiniture di pregio interne, le decorazioni a quant'altro, tutto ciò che poteva avere un qualche valore e ne decretò il successivo contestuale degrado, ulteriore degrado. Eravamo intorno agli anni 80-90. Intornati agli anni 90 un'amministrazione comunale, diciamo che fu l'amministrazione che dettò una sorta di soluzione di continuità tra le precedenti amministrazioni e quella. Penso bene di riappropriarsi del bene e dovette provvedere all'esborso di circa 2 miliardi di lire per poter riappropriarsi del bene. Quindi un bene che venne dismesso intorno al 75 per circa 60 milioni è stato riacquisito circa 20 anni dopo per l'altisonante cifra di 2 miliardi di lire. Comunque, al di là di come andarono le cose, il bene ritornò in possesso dell'amministrazione comunale e dei cittadini di Castelnuovo. Ma il bene era degradato. E quindi era piuttosto difficile immaginare di reperire risorse adeguate, in quantità adeguata, per poter sopperire alle necessità che un bene di tal genere doveva andare incontro. si parlava appunto di necessità economiche, risorse economiche per almeno una decina di miliardi per poter restaurare completamente l'antico castello Ducale. In qualche modo questi soldi arrivarono. Arrivarono per merito della provincia governata dall'allora presidente Silvano Moffa che destinò al bene circa 7 miliardi di lire, di vecchie lire, cioè 3 milioni e mezzo di euro e poi con stanziamenti successivi circa 1 milione di euro da parte della Regione Lazio ed altri fondi che vennero reperiti dal Comune stesso per un ammontare di circa, approssimativamente di 5 milioni di euro, cioè 10 miliardi di lire, il bene è stato circa due anni fa riportato ai suoi fasti antichi. Oggi il bene, cioè il Palazzo Ducale lo si può guardare e ammirare dall'esterno, è perfettamente rimesso a posto in tutti i suoi connotati esteriori, ma se andiamo a visitarlo all'interno notiamo che è stato rimesso a posto anche all'interno. Non basta dire tutto ciò, ma la precedente amministrazione, quella che poi è stata sostituita dall'attuale amministrazione, provvede anche a destinare questo bene, cioè a dargli una destinazione attraverso un utilizzo a tre del bene, cioè a Comune di Castelnuovo, l'Università Roma 3 e Provincia di Roma. Vennero si credo. L'amministrazione era comunque una decisione che ripartiva oneri o donori, quindi anche le spese in manuzione, fra i diversi soggetti che addivenivano a questa sorta di accordo, cioè di utilizzo tripartito del bene, cioè da parte di tre asset pubblici, quindi Comune, Provincia e Università. Da allora, da due anni fa, tutto tace, questa amministrazione ha congelato tutto. Il bene ha iniziato la sua purtroppo inesorabile opera di degrado, perché è chiaro che queste strutture, se sono chiuse, se non vengono utilizzate, hanno bisogno di una manutenzione costante. Sono due anni che questo bene è arrivato a compimento, è stato ripristinato, ristrutturato in tutte le sue necessità. Ci voleva, era necessario vedere che questa struttura fosse utilizzata, che desse i frutti, desse qualche forma di risultato anche di tipo funzionale. Purtroppo questa amministrazione, che è l'amministrazione del non fare, mi duole dirlo, ma è l'amministrazione del non fare, un'amministrazione in due anni non ha fatto nulla su questo Comune, purtroppo, sul territorio di questo Comune. Se non mantenere elevate tassazioni varie e rimanendo congelata nell'indeterminismo, nel non fare, nel non operare, anche sul fronte della rocca del castello Ducale, ha assunto il medesimo atteggiamento. Nulla, il bene è chiuso, le porte sono serrate, le finestre sono chiuse, la struttura sta lentamente deperendo, non si fanno operazioni di manutenzione né ordinaria né straordinaria. Quindi questo è un gravissimo atto di negligenza da parte dell'amministrazione, gravissimo in quanto i fondi, i soldi, tanto che sono stati reperiti con tanta difficoltà, oggi purtroppo non danno nessun frutto, stanno buttati lì e come al solito, come in tante altre occasioni, lo vediamo da tanti atti di denuncia a cui assistiamo, spesso e volentieri, dallo schermo di alcune trasmissioni televisive, vediamo che questo bene purtroppo sta deperendo proprio per l'incapacità e la non attitudine operativa di un'amministrazione che oltre a questo di danno ne sta compiendo molti altri. Buonasera.